Come una mamma Amichetta, svegliati! Emily, svegliati! Che c'è? Ma guarda, qui c'è un casino! Cosa avete fatto? Ieri abbiamo dimenticato di mettere tutto a posto! Emily, svegliati, bambina! Dai! Buongiorno! Guarda qua, dovete mettere tutto a posto! E lo facciamo subito! Amichetta, sta' attenta! È un incidente! Mi piace così tanto! Sei così buffa, amichetta! Ok, e adesso mettiamo tutto a posto! Per favore, vi prego, ragazze! Guarda, la macchina è taserotta! E non ti preoccupare, adesso sistemiamola! A posto! A posto! Va bene, ragazze! Bravissime! E adesso andiamo a lavarci le facce! E adesso lavati i denti! Quando lavate i denti, il movimento deve essere sempre verticale, dalla gengiva verso il dente! Amichetta! Ma che fai? Ehi, sei buffa, amichetta! Ehi, sei buffa, amichetta! Oh, Emery, non toccare le cose di Maria! Voglio farmi bella! Aspetta che ti aiuterò, aspetta! Ehi, hai le cilie, molto belle! E adesso facciamo i capelli! Ci serve la piastra! Tra! Oh! Aiii! Oh! 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 Oh, Oh! Eheh! Oh! Oh, Oh! Oh! Ma che cos'è? Ah! Ma ti sei bruciata! No! Non si può toccare la piastra perché è molto calda Prendiamo la crema per le ustioni Finito! Ma cosa ti sei fatta? Volevo solo farmi bella! Ma sei molto bella anche senza trucco Io le ho detto che non si può toccare le tue cose Mettiamo tutto a posto E adesso facciamo colazione? Siiii! Amichetta! Ciao ciao!